La mamma ha messo qualcosa di mio fratello, però tipo... Perché avevo un pantalone? Un paio di te, è un uomo che ti pianta, ma non perché per stare a casa, perché non è che ti portava lì? Sì, sì, sì. Infatti fa... Sì, che magari è un uomo che non si vede che sono da uomo. Cosa fa il video? Cosa fa il video? Sì. Mi piace con il mio, guarda che era amorosa, mamma mia, mi piace con il mio, mamma mia... Infatti ciao... Fede, ciao... Giulia, ciao...